allora oggi volevo farvi vedere un sito che ho realizzato con google site e il nome è questo monitor 7618 7618 sarebbe 7 giugno 2018 perché l'avevo creato in quel giorno e vi lascerò il link nella descrizione sotto il video e quando lo cliccherete voi vi troverete in questa pagina quindi contenuto prodotti non spaventatevi semplicemente ho messo per dare una sicurezza in più vorrei accedere al sito ed eccolo qua voi vi trovate in questa schermata principale dove avete due opzioni potete utilizzare la finestra che avete sulla sinistra e quindi muovervi voi manualmente oppure potete attivare il pannello il pannello qui ho messo che 80 per cento non compatibile con cellulari perché perché essendo che è stato realizzato da computer è fatto per essere visualizzato da da un desktop e non da una da un cellulare comunque anche col cellulare funziona però lo vedrete tutto deformato e non sarebbe la stessa cosa comunque qua trovate le istruzioni sulla sinistra istruzione 7618 vedete il pannello base la pagina iniziale del monitor insomma qui avete una piccola descrizione di quello che si può fare e allora vi faccio vedere se cliccate qua sopra su pannello base ecco vi trovate qui e procediamo con l'attivazione del pannello si attiva non cliccando il pulsante rosso magari più avanti non metterò che si attiva cliccando il pulsante rosso ma si attiva cliccando qua sopra attiva pannello ci troveremo in quest'altra schermata e qua potete vedere la categoria che più vi interessa ad esempio se siete più interessati a vedere come se c'è qualche attività sismica in giro per l'italia vedete io qua l'ho divisa in tre punti sismi nord penisola sismi da penisola e zone a rischio che vi portano a delle altre pagine web ad esempio qual'era del centro geofisico prealpino questa è la pagina dell'informativa di governo zone a rischio ecco qua oppure 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 chiudete tornate indietro allora il private access questo sarebbe solo qua vi devo abilitare per poter entrare qui qua ci saranno delle altre cose molto carine interessanti da poter visualizzare ma bisogna richiedere accesso esa news vi manda alla pagina dell'agenzia spaziale europea vulcanologia vi manda a delle dirette webcam dell'etna o altre webcam non sempre funzionano perché a volte sono spente però in questo momento funziona dovrebbe esserci anche la termica eccola qua sezione allarme questo è molto carino allarme covid 100% completato e invece adesso vabbè ovviamente perché il covid è arrivato invece adesso come allarme 2 ho inserito l'arrivo dell'asteroide a fofis che arriverà nel 2029 e semplicemente passerà vicino alla terra e probabilmente riuscirà a colpire sulla sua traiettoria qualche satellite che pioverà che ricadrà nella superficie terrestre adesso quindi c'è il controllo rovation man mano che dobbiamo arrivare al 2029 quindi manca ancora un sacco di tempo man mano che che andrà avanti la barra si completerà e vabbè qua insomma qua vi rimanda la pagina iniziale trovate le stesse cose che trovate dentro il pannello trovate sulla sinistra allarme qua in grande e niente semplicemente quindi voi potete usarlo o dal pannello o dalla finestra sinistra e nulla semplicemente ah c'è una cosa molto interessante una cosa interessante questa parte qua della messaggistica attiva messaggistica vi rimanda a una pagina chat dove sinceramente eh dove si ci si può trovare e parlare ah il mio consiglio se siete in pericolo non scrivete qua perché tanto non vi non 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 si accorgerà nessuno quindi chiamate la polizia che fate i carabinieri non scrivete qua perché non penso che rimarreste lì abbandonati da tutti e vabbè e niente magari vabbè se può interessarvi che vi può tornare utile dovrei aver messo anche il meteo da qualche parte vabbè comunque niente poi man mano lo aggiorno non lo aggiorno frequentemente lo aggiorno ogni tanto però bene o male lo porto avanti e niente tutto qui quindi Grazie a tutti.